Ok, allora con ieri abbiamo finito la parte sulla programmazione dinamica spicciola cioè proprio sulla programmazione dinamica, programmazione dinamica e oggi iniziamo una parte che non so quanto durerà su algoritmi noti ovvero vediamo un po' di algoritmi preesistenti che risolvono svariati problemi e vediamo come funzionano, vediamo che pregi e difetti hanno vediamo quando si possono utilizzare e così via oggi partiamo soft con diciamo un po' il principe degli algoritmi noti cioè la classe principe degli algoritmi noti che sono gli algoritmi di ordinamento qual è il problema? abbiamo un insieme di n numeri quindi, che non so, a di 0, a di 1, a di 2, eccetera eccetera fino a a di n no, non è vero fino a a di n meno 1 qui sono n numeri vogliamo ordinarli vogliamo metterli in ordine di solito crescente gli algoritmi di ordinamento si dividono quindi un algoritmo di ordinamento è un algoritmo, una procedura che ci permette di ottenere questi elementi in ordine gli algoritmi di ordinamento si dividono in due categorie principali ovvero i comparison based e i non comparison based comparison vuol dire comparazione confronto interlocità in italiano come volete cosa vuol dire? c'è algoritmi che si basano sulla comparazione e algoritmi che non si basano sulla comparazione perché dobbiamo un po' decidere le regole del gioco cosa ci è ammesso fare per riordinare questo vettore? beh, gli algoritmi che si basano sulla comparazione che sono quelli classici ci dicono che se noi abbiamo due elementi a e b ok? presi due elementi qualunque a e b noi sappiamo confrontare a e b ovvero sappiamo dire se a è maggiore di b sappiamo dire se a è uguale a b o sappiamo dire se a è minore di b ok? quindi queste sono le regole del gioco questi sono gli algoritmi di ordinamento cioè gli algoritmi di ordinamento basati su comparazione possono, dati due elementi, chiedersi quale è maggiore e quale è minore se sono uguali cioè la risposta a queste tre domande e poi possono tendenzialmente fare le operazioni normali che si fanno sui vettori quindi scambiare due elementi creare un altro vettore e riempirlo con gli elementi che avevi insomma le cose classiche quindi per oggi ci concentriamo su questi qua su quelli basati sulla comparazione c'è anche tutta un'altra classe di algoritmi di ordinamento che si chiamano invece non comparison based cioè che non si basano sulla comparazione e sono misti e si basano su altre tecniche che non involgono il confrontare gli elementi ok cominciamo oggi è tutto va bene ne vedremo quattro cominciamo da la cosa più semplice che molte volte viene insegnata anche nelle scuole però noi lo prendiamo con un approccio ricorsivo prenderemo tutti quelli di oggi con un approccio ricorsivo in modo da restare nel framework che ci siamo dati per come cioè come affrontare la computazione delle cose quindi approccio ricorsivo ok il nostro problema è che abbiamo un vettore lungo n e vogliamo ordinarlo un approccio una cosa molto semplice potrebbe essere questa facciamo finta che f è la nostra funzione che ordina il vettore ok quindi f sarà una cosa che prende un vettore e restituisce un vettore facciamo che per userò questa sintassi per definire un elemento di un vettore o un sotto vettore nello specifico se dico tipo a di usiamo una donazione un pochino più informatica diciamo che a di 0 ad esempio è l'elemento 0 è lo zeresimo elemento del vettore a di 1 è l'unesimo e così via quindi sarà definito fino a a di n-1 questo è per accedere agli elementi poi dico che a di facciamo 0,2 ok vuol dire gli elementi 0 e 1 cioè tutti quelli a partire da sinistra fino a quello di destra escluso quindi questo frangente tutto il vettore sarebbe questo questo è come se fosse tutto il vettore come se fosse tutto a questo è utile perché se per caso voglio dire la prima metà del vettore posso indicarla come ad esempio arrotondamento per difetto di n mezzi e con questo ho detto metà del vettore quindi questo qua è quello che in informatica si chiama slicing ovvero una slice, un pezzo del vettore dal primo indice incluso all'ultimo indice escluso cioè al secondo escluso ok quindi avendo un po' di notazione parliamo un po' di cosa possiamo fare e indichiamo con indichiamo, facciamo con così con pipe a pipe la lunghezza del vettore quindi inizialmente la lunghezza del vettore sarà n bene ok cosa potremmo dire? beh se noi abbiamo un certo f di a ok quindi vogliamo ordinare il vettore a cosa possiamo dire? che se abbiamo facciamo prima così se abbiamo f di a e cardinalità di a è uguale a 1 ok un attimo che pensavo di che mi servisse meno spazio bene allora se la cardinalità di a è 1 cioè se c'è un elemento nel vettore e vogliamo ordinare un elemento cioè vogliamo ordinare un vettore di un elemento beh la risposta è praticamente a se dobbiamo ordinare un elemento l'ordinamento di quell'elemento è quell'unico elemento ok quindi questo sarà un po' sempre il nostro caso base ok se pensiamo a tutto quello che faremo nel framework della ricorsione bene o male questo o magari se proprio vogliamo essere un pochino più laschi quindi se ammettiamo anche i vettori di 0 elementi possiamo dire che se la lunghezza del vettore è minore o uguale a 1 quindi ammettiamo anche il vettore lungo 0 allora beh l'ordinamento di quello là è il vettore stesso ok perché 0 elementi ordinati è sempre il vuoto e un elemento ordinato è lui quindi questo lo possiamo un po' identificare come caso base generale ok di tutte quante le ricorsioni che faremo per ordinare i vettori sarà un po' la nostra regola d'oro pardon devo cliccare nel punto giusto se no non si sposta sta cosa perfetto ok questo è un po' il nostro caso base ok vediamo vari approcci per cercare quindi ora di ordinarlo questo vettore ad esempio mettiamo ad avere il nostro vettore lungo quindi adesso possiamo sempre assumere che il nostro vettore lungo maggiore di 1 perché se il vettore è lungo 1 o 0 sappiamo ordinarlo abbiamo il nostro vettore maggiore di 1 una delle prime idee che sono venute è beh sicuramente il minimo tra questi elementi dovrà andare al primo posto nel vettore ordinato sicuramente il minimo chiamiamolo m ok il minimo tra tutti quanti gli indici di a di ok m sicuramente dovrà essere il primo ok ma quindi vuol dire che se noi prendiamo m e lo spostiamo al primo posto lo scambiamo con l'elemento che c'è attualmente al primo posto possiamo ricondurre il problema ricorsivamente a un problema più piccolo ovvero se noi avevamo questo a 0, 1, 2, 3 eccetera e mettiamo m come primo elemento allora beh se dobbiamo ordinare a cosa possiamo fare possiamo dire che facciamo il vettore possiamo dire che il vettore risultante sarà quello che ha m ok e poi uso un pallino per dire concatenazione cioè questo sto dicendo m al primo posto m con f di a elevato a m se noi prendiamo il minimo lo mettiamo davanti e poi ricorriamo sul vettore senza quell'elemento poi in pratica ovviamente la cosa che succederà è che troviamo il minimo e lo scambiamo quel primo elemento e poi ricorriamo sugli elementi del vettore escluso il primo abbiamo già fatto un algoritmo di ordinamento questo algoritmo di ordinamento in particolare si chiama selection sort ovvero ordinamento per selezione perché si chiama così? beh perché seleziona ogni volta l'elemento minimo e lo metti davanti e poi ricorre sugli altri ok bene funziona direi che è abbastanza ovvio qual è la complessità? la complessità la calcoliamo come per qualunque altra ricorsione quindi ci chiediamo intanto un'osservazione che ogni funzione può essere chiamata al massimo una volta quindi possiamo fare lo stesso calcolo che facciamo con la programmazione dinamica cioè ogni istanza della funzione è chiamata solo una volta allora il numero di funzioni diverse che possono essere chiamate saranno n perché ogni volta lo sto chiamando con un elemento in meno quindi prima di arrivare al caso base ok dovrò chiamare ricorsivamente sta funzione n volta perché ogni volta stiamo levando un elemento quindi abbiamo un vettore lungo 1 in meno ok quindi il numero di funzioni che chiameremo è 1 grande di n cosa dobbiamo fare? beh dobbiamo trovare sta m per fare questa operazione dobbiamo trovare sta m e per trovare m dobbiamo scorrere tutto quanto il vettore per trovare dove è il minimo ma quindi scorrere tutto quanto un vettore lungo n per trovare il minimo ci costa o grande di n quindi la complessità del selection sort è o grande di n quadro ok domande fino a qua? lo prendo come un no ok e nel senso è abbastanza semplice alla fine è uno di quelli proprio base 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 ne vediamo un altro di quelli banalotti ok un altro di quelli banalotti funziona un po' in un modo un po' complementare a questo in un modo un po' inverso ovvero questo magari è un pochino meno ricorsivo questo qua lo dico più a parole che non in formule matematichese perché poi si complica troppo e si perde il concetto fondamentale ok abbiamo il nostro vettore anzi magari possiamo per una volta avere proprio gli elementi facciamo finta che il nostro vettore è tipo che ne so 5 7 2 0 4 ok questo è proprio il nostro vettore che vogliamo ordinare ok e vediamo ora come si comporta un altro algoritmo di ordinamento che si chiama invece insertion sort ovvero algoritmo per inserimento come funziona l'algoritmo per inserimento parte anche lui dal caso base dall'assunzione che se noi abbiamo un vettore di un elemento allora deve essere perfetto ordinato quindi quello che fa è che parte dicendo se noi consideriamo solamente il primo elemento ok se noi consideriamo solamente questo pezzo del vettore allora sicuramente è ordinato ed è vero cioè questo pezzo del vettore quello che contiene solo 5 ovviamente è ordinato bene il passo che fa è invece aumento di 1 la lunghezza del vettore che sto considerando quindi finora stavo considerando fino a qua aumento di 1 questa cosa quindi considero fino a qua e cosa posso dire? sicuramente il pezzo che stavo considerando prima è ordinato ok per ipotesi ricorsiva se abbiamo qualcosa di più piccolo è già ordinato e effettivamente partiamo che è vero il vettore lungo 1 è già ordinato allora se noi abbiamo un vettore che è già ordinato e vogliamo inserire un elemento cosa possiamo fare? possiamo farlo scorrere verso l'indietro ok finché non capita che o è andato al primo posto quindi era il minore oppure finché non trova finché non si trova alla sua sinistra un elemento che è minore di lui proviamo a simulare questa cosa quindi partiamo con il vettore solo lungo 5 ed è ordinato ok aumentiamo il bound aumentiamo e ora consideriamo il vettore lungo 2 vogliamo inserire il 7 allora cosa facciamo? lo scambiamo con l'elemento a sinistra finché o non arriva al primo posto o non trova un elemento a sinistra che è minore di lui il 5 è già minore di lui allora è inserito in realtà effettivamente 5 e 7 era già ordinato e quindi effettivamente è giusto che non abbiamo fatto niente ok aumentiamo di 1 ora vogliamo inserire 2 sappiamo che tutto quello che abbiamo a sinistra è già ordinato allora cosa facciamo? scambiamo il 2 a sinistra finché o non va al primo posto o non troviamo un elemento minore di lui a sinistra 7 è minore di 2 pardon sì 7 è minore di 2 no allora dobbiamo scambiarlo allora cosa facciamo? ok qua c'è va 2 e qua c'è va 7 li abbiamo scambiati è al primo posto? no l'elemento a sinistra di lui è minore di lui? no perché 5 non è minore di 2 allora ancora dobbiamo scambiarlo scambiamo il 2 e il 5 qua va il 2 qua va il 5 è arrivato al primo posto? sì allora non può più andare a sinistra e abbiamo finito ok e effettivamente questo pezzo del vettore risulta adesso essere ordinato e andiamo avanti sì non è stata una idea geniale perché adesso ctrl z non fa più la cosa giusta ok comunque vedete che adesso facciamo la stessa cosa con 0 quindi lo spostiamo a sinistra finché o non è al primo posto o non troviamo un elemento minore di lui a sinistra e inevitabilmente sto 0 no non serve che lo simuliamo passo per passo andrà a finire perché confronto con 7 ed è minore di lui confronto con 5 ed è minore di lui confronto con 2 ed è minore di lui ed è crashato open board perfetto segmentation fault stupendo ok e cosa dicevo che comunque eravamo arrivati che eravamo tipo a 0, 2, 5, 7 ci mancava il 4 ok alla fine vediamo che l'elemento il numero 0 è arrivato in fondo e tutto questo pezzo è ordinato facciamo di nuovo questa cosa con 4 che è l'ultimo elemento che ci manca spero che questo giri crashi di meno confronto con il 4 è minore di lui quindi vado a sinistra confronto con il 5 è minore di lui vado a sinistra confronto con il 2 il 2 è minore allora il 4 si ferma qua una volta che abbiamo fatto l'inserimento quindi di ogni elemento abbiamo finito il vettore ordinato calcoliamo la complessità dell'insertion sort dovremo aumentare il bound che stiamo considerando n volte ok perché ogni volta stiamo aggiungendo un elemento ce ne sono n quindi ogni volta che mettiamo il bound è un'operazione più che stiamo facendo e quindi dobbiamo farne un po' grandi di n e per ogni volta che mettiamo il bound alla peggio dobbiamo scambiare quell'elemento con n elementi perché alla peggio se noi partiamo con un vettore che è ordinato al contrario cioè che è ordinato in modo decrescente ogni volta ogni elemento dovrà andare all'inizio e quindi dovremo scambiarlo con tutti quanti visto che possiamo fare alla peggio n scambio ogni volta abbiamo un fattore grande di n per ogni volta che mettiamo il bound quindi anche questo algoritmo è un grande di n quadro che 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 è vero che è un grande di n quadro come il selection sort però queste qua sono attenzione stime asintotiche non è detto che poi in pratica uno non sia migliore dell'altro ovviamente al più è migliore di un fattore costante o di un fattore subquadratico cioè non può essere ovviamente non può sempre più migliorare in modo migliore del quadratico perché hanno lo stesso bound asintotico non è che uno poi man mano che vi avanti il gap di performance aumenta rimane sempre manato da un qualche fattore costante però se provate a implementarli e provate a ordinare che ne so vettori di 100.000 elementi o 10.000 elementi noterete che l'insertion sort è più veloce perché è più veloce? perché include in qualche senso questo concetto della early rejection ovvero se noi stiamo inserendo un elemento e ad un certo becchiamo un elemento a sinistra che è minore ci possiamo fermare non dobbiamo fare tutti quanti gli n elementi mentre col selection sort quando cercavamo il minimo è ogni volta abbiamo per forza cercare il minimo fra tutti quindi l'insertion sort che sia assintoticamente complesso quanto l'insertion sort sono entrambi nel quadro se provate noterete che in media l'insertion sort risulta essere un pochino più veloce ok questi però erano due ordinamenti giocattolo cioè sono quegli algoritmi di ordinamento che si vedono perché sono banali giusto per introdurre il concetto ma in pratica non si usano mai perché sono lenti quindi cominciamo a vedere un algoritmo invece più carrozzato e parliamo di quicksort quicksort è proprio uno dei classici algoritmi di ordinamento pratici cioè veloci però vedremo che in realtà questo quick questo auto endorsement di velocità dato dallo stesso nome dell'algoritmo in realtà non è così vero vedremo che in realtà c'è qualcosa che non va qual è l'idea di quicksort quicksort è uno di quegli algoritmi che si chiama divide e timpera ovvero qual è il concetto base noi abbiamo partiamo sempre da una qualche sequenza di numeri ok e ci mettiamo anche un bel 6 dai partiamo quindi da sempre i numeri che vogliamo ordinare e quicksort fa il seguente ragionamento allora intanto ha sempre lo stesso caso base ovvero se sto ordinando un vettore che è lungo 1 o lungo 0 è ordinato non devo fare niente caso base è sempre lo stesso il caso generale qual è il caso generale dice prendi un elemento a caso tipo che ne so prendiamo questo 3 ok se noi facciamo finta di mettere questo 3 facciamo finta che è qua in mezzo ma non per forza in mezzo in mezzo ma facciamo che nell'etere è in mezzo cosa possiamo dire beh se scorriamo tutti quanti gli altri elementi e mettiamo a sinistra di questo 3 quelli più piccoli e a destra quelli più grossi ok facciamo questa operazione quindi quindi ce li scorriamo tutti 6 è minore o maggiore di 3 maggiore lo mettiamo a destra 4 è minore o maggiore lo mettiamo a destra perché è maggiore 2 è minore lo mettiamo a sinistra 1 è minore lo mettiamo a sinistra 5 è maggiore lo mettiamo a destra 0 è minore lo mettiamo a sinistra bene questa operazione si chiama pivoting se noi facciamo questa operazione di pivoting quindi ne prendiamo uno a caso e poi mettiamo a sinistra tutti quelli minori e adesso tutti quelli maggiori possiamo spaccare il problema in sottoproblemi più piccoli nello specifico sicuramente la risposta ok il vettore ordinato sarà dato da l'ordinamento chiamiamolo F di questo vettore ok concatenato all'elemento di pivoting concatenato all'ordinamento della parte destra perché sicuramente non potrà capitare mai che un elemento di quelli che è andato a sinistra doveva essere a destra nell'ordinamento finale perché a sinistra ci sono tutti e soli quelli minori quindi per forza per forza nell'ordinamento finale quelli che dovranno stare a sinistra del 3 sono proprio loro è proprio questo insieme qua stessa cosa per quelli che stanno a destra sono solo tutti maggiori quindi noi abbiamo ora levato un elemento dal nostro provvedimento di ordinamento ok perché lui ora sappiamo che dovrà stare in questa posizione e possiamo ricorrere possiamo rifare quicksort possiamo rifare questa operazione di pivoting sulla parte destra e sulla parte sinistra quindi che ne so di qua ad esempio possiamo prendere prendo uno a caso non ho detto che sia la cosa migliore o peggiore da fare prendiamo il 2 come pivot quindi ora tutti quelli del suo pezzo li vogliamo mettere a sinistra e a destra quindi abbiamo 0 e lo mettiamo a sinistra 1 lo mettiamo a sinistra abbiamo finito non mettiamo nulla a destra ok poi il 3 rimane dove era facciamo il pivoting anche sulla parte destra mettiamo che prendo il 5 come pivot quindi metto a sinistra il 6 lo devo mettere a destra perché è maggiore il 5 lo devo mettere a sinistra il 4 lo devo mettere a sinistra perché è minore e abbiamo finito ok e ancora quindi ora ci rimane questo pezzo di vettore questo pezzo di vettore e questo pezzo di vettore e chiamiamo ricorsivamente ancora quindi 0 e 1 facciamo che uso 0 come pivot ok quindi 1 andrà a destra e ho finito questo pezzo 2 rimane qua dove era 3 rimane qua dove era 4 è un caso base perché c'è solo un elemento quindi abbiamo trovato 5 rimane dove era 6 è anch'esso un caso base ok qua ora dovremmo fare questo pezzo qua ma questo senza troppa fantasia è un caso base perché anche lui è rimasto da solo quando quindi arriviamo ai casi base abbiamo il vettore ordinato questo è quicksort quindi qual è l'idea se il vettore lungo 1 è ordinato altrimenti prendiamo un elemento caso ok lo usiamo come pivot come pivot quindi lo mettiamo in mezzo scorriamo tutti gli altri elementi mettiamo a sinistra quelli più piccoli e a destra quelli più grandi e poi ricorriamo facciamo la stessa cosa sulla parte destra sulla parte sinistra alla fine avremo il vettore ordinato ora la domanda è qual è la complessità di quicksort qual è la complessità computazionale di quicksort la risposta è vediamo noi ricordiamoci che quando calcoliamo la complessità computazionale di un algoritmo ci dobbiamo sempre riferire al caso peggiore ok dobbiamo sempre far finta che se dobbiamo fare una scelta random se abbiamo se ci può capitare qualcosa di bello o di brutto ci capita sempre la cosa peggiore ok quindi chiedo a voi qual è il caso peggiore qual è qua il non determinismo che qual è la scelta deterministica o random che stiamo facendo comunque qual è la cosa che ci può andare male e qual è la cosa peggiore che ci può capitare secondo me la peggiore è partire con un estremo quindi partire con 0 partire con 6 ok allora vediamo se riconosco le voci potrei non riconoscere questo è oh sì scusami sono Stefano S oh mannaggia perché stavo per dire che eri Stefano S quindi vuol dire che sto cominciando a capire quali sono le vostre voci perfetto allora Stefano S ci dice se noi adesso cancello tutto ma così rifacciamo quindi mettiamo che abbiamo adesso non sarà nello stesso ordine ma chi se ne frega se noi prendiamo come pv 0 ok cosa capiterà che andranno tutti a sinistra eh tutti a sinistra tutti a destra ok rifacciamo ricorsivamente se ancora capita che prendiamo o il più piccolo o il più grande facciamo che questa volta prendiamo 6 ok ancora di nuovo andranno tutte a sinistra questo giro quindi avremo 1 3 2 e così via e così via perché questo è brutto perché in questo modo ogni volta stiamo solamente fissando la posizione di un elemento e quindi il numero di volte che dovremmo fare la chiamata ricorsiva sarà 1 grande di n ma quanto lavoro dobbiamo fare ogni volta? beh dobbiamo riordinare tutti gli elementi dobbiamo metterli a destra a sinistra quindi dobbiamo scorrere i cieli tutti ma allora ogni volta ci costa 1 grande di n quindi la complessità del quick sort del quick sort è n quadro non meglio di insertion sort e selection sort ma allora perché viene in realtà allora perché viene millantato essere veloce e perché viene usato dalle persone più inesperte perché in realtà non è vero che viene veramente usato nel mondo moderno perlomeno cioè quelli che sanno quello che stanno facendo non lo usano veramente mai appunto perché c'è questo problema perché il caso peggiore è n quadro però perché viene millantato e perché viene usato magari da quelli un pochino più inesperti perché in pratica cioè se voi provate a implementarlo e lo fate andare in pratica funziona fenomenalmente bene perché funziona fenomenalmente bene perché in realtà il numero di volte che dovremmo fare questa ricorsione è sensibilissimo da che elemento stiamo prendendo e più prendiamo un elemento centrale più prendiamo un elemento che è vicino alla mediana e meno volte dovremmo fare la ricorsione perché se noi ogni volta se noi avessimo un oracolo che ci dice guarda che questa è la mediana quindi questa è la scelta ottima invece di prendere la mediana se noi avessimo questo oracolo che ci dice guarda che questa è la mediana allora avremmo che ogni volta se noi abbiamo un vettore lungo n e prendiamo esattamente ogni volta la mediana e quindi poi spacchiamo in due ok e qua abbiamo la mediana e poi prendiamo ancora la mediana da questa parte la mediana da questa parte spacchiamo in due e così via ok e in questo caso abbiamo finito in realtà ogni volta stiamo raddoppiando a ogni livello di ricorsione stiamo raddoppiando gli elementi che stiamo fissando ma quindi se ogni volta raddoppiamo gli elementi che stiamo fissando quindi ora sto parlando del caso migliore ok vuol dire che ci metteremo una cosa dell'ordine n per log n perché n per log n perché n ogni volta comunque dobbiamo fare le operazioni di riaggiustamento degli elementi però visto che ogni volta stiamo raddoppiando gli elementi che abbiamo sistemato beh saranno quindi 1 poi 2 poi 4 poi 8 poi 16 poi 32 poi 64 quindi quante volte dobbiamo fare questa cosa prima che li fissiamo tutti beh se fate i conti di n log n anzi è proprio la definizione di logaritmo questa cosa qua se vogliamo essere precisi logaritmo in base 2 ma però possiamo fare logaritmo ok quindi in realtà nella stragrande maggioranza dei casi l'algoritmo genererà una velocità che si attesta intorno all'n log n perché è vero che magari non prende la mediana ma magari prende una roba che è vicina alla mediana quindi magari non è proprio un logaritmo in base 2 ma una roba simile il fatto è che però se ci va di sfiga se ogni volta prendiamo l'elemento minore o maggiore o comunque una cosa che è molto vicino al minore o molto vicino al maggiore ok è una cosa che è molto vicino a uno dei due estremi beh allora andiamo invece nel caso pessimo quindi nel o grande di n4 questo è uno degli algoritmi ora senza entrare troppissimo nei dettagli che ha un caso medio che è diverso dal caso peggiore il caso peggiore di questo è o grande di n4 cioè ovvero la domanda di qual è la cosa peggiore che può capitare che è diverso dal caso medio che invece è di solito cosa che capita cioè normalmente cosa ci aspetteremo che capita dove invece il caso medio è uno grande di n log n però non è bello avere usare un algoritmo che potenzialmente ci può esplodere in faccia ci può costare n4 allora la domanda che ci facciamo è ma riusciamo a fare un algoritmo che invece nel caso pessimo ci costi meno di n4 la risposta è sì e uno dei più semplici di questi tali algoritmi è il merge sort ovvero ordinamento per fusione non so come tradurre merge merge sort i nomi inglesi sono tanto carini come funziona come funziona il merge sort il merge sort allora partiamo dagli elementi che ne so 3 4 0 7 1 2 cosa manca 0 1 2 3 4 5 6 8 ok credo che siano tutti no ci manca il 5 non che debbano essere veramente contigui lo sto solo facendo perché almeno così sappiamo che alla fine deve uscire 0 1 2 3 4 5 6 7 ok allora merge sort come funziona comincia sempre dal concetto sempre caso base che se il vettore è lungo 0 1 è ordinato cosa fa? è un altro non è proprio divide e ti impera però si avvicina qual è il concetto base del merge sort? è che se noi avessimo due vettori ordinati ok se noi avessimo due vettori ordinati chiamiamoli A e B quindi che so 0 3 7 e 1 2 5 ok questi sono due vettori ordinati allora possiamo in tempo lineare creare un vettore che contiene gli elementi di A e gli elementi di B ordinati ok possiamo creare il vettore fusione il vettore merge di A e B in tempo lineare ordinato come facciamo? beh pensiamo di avere una freccetta sui primi elementi di A e B e ci chiediamo la freccetta di A è minore della freccetta di B se sì allora il primo elemento di A più B cioè dell'unione di A e B sì più che più in realtà qua dovremmo parlare di A unito B ok quale sarà sarà 0 perché se il minore dei minori è quello di A allora per forza è il primo elemento una volta che abbiamo fatto questo spostiamo la freccetta su quello dopo e ci facciamo ancora la domanda è minore la freccetta di B o la freccetta di A ma in questo caso è la freccetta di B allora sarà il prossimo e spostiamo la freccetta su B è minore la freccetta di B o la freccetta di A beh quella di B e allora e andiamo avanti così questa è la freccetta di A quindi è questo quindi 3 il minore è 5 a questo punto una volta che una delle due freccette si esaurisce cioè non abbiamo più elementi là dentro mettiamo tutti quelli che rimanevano di là in questo caso solo 1 che è 7 bene quindi sapendo che possiamo fare il merge di due vettori ordinati in tempo lineare il merge sort ci dice questo prendi il vettore che hai spaccalo in due spaccalo in due proprio preciso cioè preciso nel senso ovviamente se hai dei spari non preciso ma comunque in mezzo l'elemento in mezzo mentre da una parte della data non mi interessa se invece pari puoi spaccarlo a metà preciso ordina la parte sinistra e la parte destra e quando è finito quando le hai ordinate fai il merge quindi che succederà che poi verrà chiamato ricorsivamente merge sort qua dentro ok quindi avremo 3, 4, 0, 7 ok e di qua avremo 1, 2, 6, 5 ok e di nuovo di qua cosa fa? lo spacca in due stessa cosa di qua lo spacca in due va bene quindi avremo di qua il vettore 3, 4 di qua il vettore 0, 7 di qua il vettore 1, 2 di qua il vettore 6, 5 ancora una volta lo spacca in due spacca in due spacca in due spacca in due e cosa abbiamo? il vettore 3 il vettore 4 0, 7 1, 2 6, 7 attenzione questi ora sono 8 vettori di un elemento queste barrette indicano che questi qua sono vettori diversi abbiamo detto che il vettore da 3 cioè il vettore lungo 1 è già ordinato un vettore lungo 1 un vettore lungo 0 è già ordinato bene allora adesso noi abbiamo i vettori ordinati allora cosa possiamo fare? possiamo fare il merge ovvero prendiamo gli elementi ordinati dei due vettori in cui abbiamo spaccato il nostro vettore originale e li usiamo per ordinare per trarre il vettore originale ordinato quindi freccetta freccetta in questo caso è balordo perché abbiamo 3 e 4 3 è meno di 4 quindi il primo elemento sarà 3 ok freccetta via e poi rimane 4 ed è 4 no scusate ma in fondo non è 5 scusami in fondo non è 5 ah si 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 ho copiato male pardon pardon ho copiato male ok e quindi adesso sappiamo che questo qua questo 3 e 4 è ordinato è proprio il vettore ordinato ok stessa cosa di qua freccetta freccetta 0 è il minore quindi sarà il primo 7 è quello e l'ultimo che rimane è ovviamente qua stessa cosa di qua 1 2 freccetta freccetta 1 è il primo e 2 è quello dopo ecco qua è successo la prima cosa interessante 6 5 in questo caso il minore è quello puntato alla freccetta a destra quindi lo mettiamo qua e poi ci rimane solamente questo qua e lo mettiamo bene a questo punto possiamo tornare ancora su di un livello quindi avevamo 3 4 0 7 l'abbiamo spaccato in questo e questo ora sappiamo che la parte sinistra e la parte destra sono ordinate possiamo rifare la stessa cosa quindi freccetta freccetta e cancello il pezzo sopra ok anzi in realtà ora che risalgo facciamo che si cancello anche questi qua in mezzo ok ora quindi freccetta freccetta 3 o 0 chi è minore? 0 allora prendo lui e sposto la freccetta 3 o 7? 3 sposto la freccetta 4 7 stessa cosa di qua freccetta freccetta vettore sinistro vettore destro cioè parte sinistra parte destra cancello gli elementi qua sopra che devo riscrivere 1 2 eh perdono 1 5 chi è minore? 1 ok sposto la freccetta 2 5 2 a questo punto di qua ho esaurito metto tutti quelli che rimanevano nell'altro perché sono già ordinati quindi 5 e 6 bene ultimo livello siamo tornati a quello iniziale abbiamo la parte sinistra e la parte destra ordinate sfruttiamole per fare il merge finale 0 1 che è minore 0 quindi il primo divento è 0 sposto la freccia 1 3 che è minore 1 sposto la freccia 2 3 2 3 o 5 3 4 5 4 5 7 5 6 o 7 6 abbiamo finito e quindi 7 questo è il merge short abbiamo ordinato il vettore usando il caso base che un elemento è ordinato e se spacchiamo il vettore in due e ordiniamo la parte sinistra e la parte destra poi possiamo ricombinare queste due parti nel vettore ordinato in tempo lineare bene complessità di questa cosa allora ogni volta a ogni livello dovremo ordinare i due vettori già ordinati ok e quindi ogni volta ci costerà tempo lineare fare questo riordinamento questo merge il merge ci costa tempo lineare l'abbiamo detto la domanda è quanti livelli di ricorsione ci sono? beh ogni volta stiamo spaccando a metà e ci fermiamo a spaccare a metà quando ordiniamo quando abbiamo il vettore lungo 1 ma quindi quante volte dobbiamo spaccare a metà prima di ottenere tutti quanti i vettori lunghi 1? beh è sempre la definizione di logaritmo è il logaritmo in base 2 del numero iniziale quindi questo algoritmo in ordinamento qua che in realtà qua non abbiamo dovuto assumere il caso peggiore migliore perché tanto ci mette sempre allo stesso tempo è deterministico la complessità di questo algoritmo del merge short è quindi o grande di n log n ok domande fino a qua? no no ok perfetto bene questi erano un po' di algoritmi e una domanda che io mi sono fatto all'epoca e può essere interessante è bene abbiamo trovato un ordinamento che è o grande di n log n nel caso peggiore possiamo fare di meglio? esiste un algoritmo di ordinamento che ricordiamoci che stiamo parlando di algoritmi comunque comparison based ok oggi siamo nel reame dei comparison based cioè quelli che come regole del gioco possono prendere due elementi e dire sapere se uno è minore dell'altro ok quindi data queste regole del gioco esiste un algoritmo di ordinamento che fa meglio di o grande n log n nel caso peggiore? la risposta straordinariamente o forse poco straordinariamente è no non esiste un algoritmo che fa meglio di n log n nel caso peggiore se usa cioè algoritmo comparison based e c'è proprio un teorema c'è un teorema che dimostra questa cosa che non può esistere un tale algoritmo quindi diciamo che l'ordinamento si deve risolvere si risolve nel caso peggiore in omega grande di n log n omega grande vi ricordo che vuol dire che ci vuole almeno questo tempo ok posso chiederti il bubble sort quant'è? non lo conosco cioè considerate che di sort ne esistono centinaia proprio sicuro centinaia e ovviamente non li conosco tutti comunque sicuramente se vai su wikipedia lo trovi e sicuramente se è comparison based ti dico subito che non può non può fare meglio di n log n per forza perché questo è proprio teorema non può fare meglio di questo nel caso peggiore beh ma in realtà possiamo fare questo esperimento lo conosci abbastanza bene da saperlo descrivere persona che stavi parlando che non so chi sei lo conosci abbastanza bene questo algoritmo che mi hai citato ok mi sa che questa persona o è cresciata non lo so va bene ok niente se no proviamo a stimare la complessità così al momento ma è lo stesso ok ah eri stefano no non ti si sente non ti si sente perché se no ovviamente ti avrai così ora ora si ok dicevo me lo sapessi descrivere abbastanza bene come suggerisce il nome bubble sarebbe bolle no ah perdono scusa ok io ho capito double no no ok il bubble sort lo conosco ok scusami va bene va bene allora il bubble sort lo descrivo molto velocemente l'idea è questa abbiamo sempre il nostro vettore di partenza ok e funziona in questo modo prendo considero le coppie adiacenti a partire dalla coppia adiacente più a sinistra e vado verso quella più destra quindi prima considero 3-4 poi questo qua questo qua eccetera eccetera e ogni volta dico se la coppia non è ordinata cioè se il primo è maggiore del secondo li scambio ok quindi cosa faccio? 3-4 è ordinata? sì non faccio niente 4-1 è ordinata? no allora diventano 1-4 4-0 è ordinata? no allora diventa 0-4 4-2 è ordinata? no allora diventa 2-4 ok noterete che alla fine di una di queste iterazioni quindi alla fine di aver fatto questa cosa delle coppie l'elemento maggiore sarà arrivato alla fine ma quindi vuol dire che il vettore ordinato sarà l'ordinamento di quello che ci rimane cioè dei primi n-1 elementi concatenato a questo elemento che ora è arrivato alla fine detto questo adesso tu Stefano mi dici la complessità di questo algoritmo credo che sia o n per ogni volta che ripartiamo a confrontarli allora sicuramente ogni volta che facciamo salire la bolla si chiama bubble source perché sta roba sembra che sia una bolla che sale sicuramente alla peggio dovremmo fare e ne scambi giusto? sì ovvio ok ora quindi se ogni volta dobbiamo fare più ne scambi quante volte dovremmo ripetere questo procedimento? se abbiamo detto che alla fine sappiamo che l'ultimo elemento è al posto giusto e dobbiamo ora ancora ordinare tutti quanti gli altri? n volte n volte perché se ogni volta troviamo il massimo in questo modo cioè il massimo è andato al suo posto beh dovremmo farlo n volte quindi questo algoritmo come puoi ben vedere è quadratico ok grazie prego questo è il bubble sort tra l'altro non è assolutamente difficile inventare un algoritmo di ordinamento quadratico però quelle n o n sono più difficili da inventare invece se provate a pensare a delle idee per ordinare un vettore vostre quasi sicuramente vi esce un algoritmo quadratico a meno che le idee non sono sbagliate a quel punto non funziona ok quindi questo era tutto quello che vi dovevo dire su gli algoritmi di ordinamento comparison based ah no c'è un'altra cosa importantissima che vi dovevo dire se in gara vi dovesse mai capitare di dover ordinare un vettore la cosa giusta da fare è non usare nessuno di questi la cosa giusta da fare è invocare la funzione sort o questo è in questo è in costruttivo cioè magari fatelo in gara è solo una perdita di tempo ci sono già degli algoritmi di ordinamento già implementati nelle librerie standard di praticamente qualunque linguaggio di programmazione esistente quindi usate quella perché è sicuramente più veloce di quanto voi potete fare nel tempo della gara cioè è molto più veloce del codice che scrivereste e ci mettete meno tempo perché dovete solo invocarla quindi questo è l'ultimo bit of advice che vi do per la lezione sull'ordinamento è bello sapere come funzionano a volte capitano problemi dove dovete veramente implementarlo perché quello standard non fa la cosa giusta magari poi vedremo problemi del genere però nella stragrande maggioranza dei casi se dovete ordinare qualcosa usate la funzione di libreria ok ma lui fa in ordine crescente sì le funzioni di libreria di default lo fanno in ordine crescente se lo vuoi in ordine decrescente semplicemente prima lo ordini cioè prima lo fai ordinare in ordine crescente poi fai il reverse del vettore cioè scambi il primo con l'ultimo ah sì deposizione esatto se lo vuoi in ordine decrescente tanto costa tempo lineare fare il reverse ed è un for cioè proprio un for che scambia sì 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 ok bene ci sono altre domande no ok lo prendo come un no lo prendo come un no no